Devi tirarmi fuori di qui. È successa una cosa, papà. Una brutta cosa. Pronto. Suo figlio è assente e ingiustificato. Mio figlio è in Iraq. Suo figlio era in Iraq, signore. Il suo reparto è rientrato quattro giorni fa. C'è qualcosa che vuoi dirmi? Perché non posso venire con te? Starà facendo Baldoria. Non gli andrà di essere sorpreso da sua madre. Non vorrei sembrarle poco preoccupato, ma mi aspetto di vederlo tornare da un momento all'altro ubriaco. Signore, devo informarla che ieri sera è stato rinvenuto un cadavere. Voglio vedere dove è morto. Non c'è niente da vedere. L'omicidio è avvenuto nella nostra giurisdizione. È qui che non ci siamo. Che ne andiamo, ragazzi? Se ne occuperanno quelli con i bottoni lucidi. Quelli della scientifica avrebbero dovuto trovare tracce di sangue qui. Vorrei vedere il suo alloggio. Posso prenderlo? Vuole anche le immagini. Che devo fare? Ogni secondo che perdiamo in questa indagina. Non hai appena detto che sei una che obbedisce agli ordini? Lei sa cos'è giusto fare. Per caso ha visto questo soldato? Sì, erano qui. Non puoi interrogare i testimoni. Qualcuno deve farlo. Mi racconti cos'è successo? Non so spiegarlo. Scopra perché hanno mentito. È frustrante per lei essere circondato da incompetenti. Non ho fatto solo io l'accordo. E se qualcuno vi corre incontro, gli sparate? Lei non sa cosa abbiamo fatto laggiù. È la sua voce nel video. Quale video? Non fermarti, accelera! Era orribile laggiù. Non vedevo l'ora di andare via. Dopo due settimane qui, vorrei solo tornare in Iraq. Non dovrebbero mandare gli eroi in luoghi come l'Iraq. Mi ha chiesto aiuto. Lei è un buon padre. Non deve dimostrare che gli voleva bene. Non dovrebbero lasciare le campi. No dovrebbero mandare le campi. Non dovrebbero mandare gli eroi in l'antico. Lei è un buon padre. Che gloria è un buon padre. Grazie.